Musica Due esposti in materia di sanità sono stati depositati dai deputati del Movimento 5 Stelle, Dali Lanesci e Paolo Parentele in Procura a Catanzaro e alla Corte dei Conti. Il primo atto, hanno spiegato i parlamentari incontrando i giornalisti, riguarda l'illecità del finanziamento pubblico della Regione all'azienda ospedaliera unica Mater Domini di Catanzaro, che sarebbe in evidente carenza di valido protocollo di intesa tra la Regione e l'Università. Il secondo esposto concerne l'intesa tra gli ospedali Pugliese Ciaccio e le Bambini Gesù di Roma. Per entrambi il Movimento 5 Stelle parla di danno erariale per i cittadini calabresi. Gli esposti sono stati consegnati alla Procuratore Vincenzo Lombardo e all'Aggiunto Giovanni Bombardieri. In particolare per quanto riguarda il primo esposto, segnaliamo un'illecità del finanziamento dell'azienda ospedaliera Mater Domini, perché si reitera dal 2008 una prorogazio assolutamente illegittima di un protocollo di intesa che è scaduto. Sappiamo che i rapporti tra Regione Calabria e Mater Domini sono per forza normati da questo protocollo di intesa, che però è scaduto nel 2008. Ovviamente sarà la magistratura a valutare il danno erariale e l'eventuale illecità penale. Il concetto è che non è più possibile pensare di dare un surplus di milioni di euro alla Mater Domini in una regione che è ancora commissariata per il rientro dal debito sanitario. In sintesi noi chiediamo al commissario Scura di stralciare questo decreto, rivedere il protocollo di intesa con l'azienda ospedaliera Mater Domini, e soprattutto anche dal presidente Oliverio di troncare l'erogazione di questo finanziamento che è assolutamente illegito. Il presidente Oliverio lo può fare, lo deve fare, così come lo stesso commissario Scura. La riconvenzione è scaduta già da anni. Quello che è importante è che, come già stato ricordato, ci sono state molte vicende che si sono succedute nel corso di questi ultimi anni. C'è stato un commissariamento, il commissariamento si è bloccato, è rimasto sospeso, si è ripreso in modo molto tenue, perché chiaramente chi è stato nominato commissario per pochi mesi non ha intrapreso, non ha avuto il tempo, ma non ha neanche intrapreso altro che non fosse l'ordinaria amministrazione. La struttura commissariale che è stata nominata il 12, il 14, non mi ricordo neanche bene, di marzo, il 12 di marzo, oggi ha pieni poteri per, e noi ci stiamo lavorando. Quanto a distrazione di soldi, francamente non riesco a capirlo. Le aziende universitarie e soprattutto le aziende ospedaliere, che siano universitarie o non universitarie, vengono pagati a DRG. Cioè per ogni azione che loro svolgono, per ogni ricovero che loro fanno, vengono pagati da chi ha ricoverato. Quindi non capisco proprio questa distrazione di soldi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.